Ciao a tutti ragazzi io sono Ara e benvenuti in questa nuova recensione sigla Oh ed eccoci con una nuova uscita per la linea Mezco 112 Collective abbiamo tra noi Cable PX Exclusive Ovvero la versione in edizione limitata di Cable appunto eccolo qui nella sua scatola di latta come al solito elegantissima una figata Poi abbiamo qui sul lato appunto vediamo il nome della linea niente di interessante qui ancora una volta la marca Mezco Toys Qui abbiamo il nome della figure qui invece nulla semplicemente il logo di Cosmic E qui invece sul retro vediamo un po' di pose del nostro personaggio con tutti gli accessori contenuti all'interno della confezione Come sempre ragazzi vi ricordo che se voleste acquistare questo tante alteration figure potete trovarne nel mio sito Aras Review Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione Ovviamente acquistando le mie utereste veramente tantissimo Per questa recensione devo ringraziare infinitamente il mitico Leonardo che non solo ha acquistato questa figure da me ma mi ha permesso anche di recensirla e vi assicuro che non è da tutti Quindi grazie veramente di cuore ma direi di non perdere l'altro tempo sulla confezione andiamo subito a vedere la nostra figura fuori da essa Oh ed eccoci qui con il nostro Cable e tutti i suoi accessori che come vedete sono tantissimi Cominciamo a toglierci diciamo quelli che vediamo sempre ovvero il sacchettino salva freschezza per contenerli tutti Poi abbiamo la solita asta eccola qui trasparente molto molto solida e resistente che si potrà collegare a questa basetta molto figa con la X Rimuovendo questo perno qui che volendo si può usare appunto per posare la nostra figure senza l'asta inserendolo sotto un piede Poi abbiamo delle batterie ragazzi che andrebbero inserite nella testa del nostro cable per permettere di illuminare l'occhio Io non mi permetto di farlo perché non so se Leonardo vuole utilizzare queste batterie o no Quindi però sappiate che si può illuminare l'occhio e questa è una cosa spettacolare Per il resto abbiamo un bel po' di mani intercambiabili Abbiamo queste tre vedete con il guanto giallo guardate che spettacoli dettagli all'interno del guanto Fantasmagorici davvero ci sono anche qui sulla parte posteriore sul dorso con la X Vedete con questo giallo un po' più scuro del giallo del guanto Spettacolari davvero questo qui serve per impugnare le varie armi da fuoco Questo qui serve per impugnare invece l'arpione Poi abbiamo anche le mani vedete del braccio robotico che hanno esattamente le stesse pose delle mani precedenti Solo che come vedete appunto sono robotiche e sono qualcosa di assolutamente pazzesco ragazzi Veramente una realizzazione incredibile da parte di Mezco Per il resto cominciamo a vedere le armi Abbiamo questa pistolina veramente ben realizzata nella sua piccolezza Comunque poi vedremo che è dotato di ben altre armi da fuoco Comunque è fatta davvero bene con un sacco di dettagli Come d'altronde è solito fare Mezco Per il resto abbiamo anche questo fantastico arpione Anche questo veramente incredibile dipinto alla perfezione in ogni minimo particolare ragazzi Spettacolo Poi abbiamo questo cannone guardatelo qua Bello fiero con questa parte tra l'altro che gira in questo modo qui Con questo painting gun metal veramente eccezionale Qui vediamo anche un po' di graffi davvero spettacolare Incredibile E poi abbiamo quest'altro cannone qui ragazzi Molto molto figo anche questo Questo diciamo è il cannone più caratteristico Di cable con questa parte vedete verde trasparente Spettacolo davvero Anche questo è una realizzazione impeccabile in ogni minimo particolare E poi abbiamo anche una testa intercambiabile Eccola qui con i denti stretti In questo modo qui Qui forse potevano fare un po' meglio devo dire la verità È un'espressione un po' strana Potevano farla con la bocca aperta magari Secondo me ci sarebbe stata meglio su un personaggio come cable Però a parte l'espressione come al solito la realizzazione È impeccabile Sfumature sui capelli Painting eccezionale Ora andiamo a vedere il nostro cable più nel dettaglio Come vedete è dotato della tuta più classica Perché questa è la versione esclusiva Invece nella versione normale abbiamo una tuta più moderna Veramente ben fatto Questo qui è il viso serio Questo è a dir poco perfetto Fighissimo l'occhio con le cicatrici Questo è l'occhio giallo che dovrebbe appunto illuminarsi Ma vediamo i dettagli appunto della tunica Che sono pazzeschi ragazzi Perché non è semplicemente fatta di questo materiale similpelle Ma vedete vicino le articolazioni A questo materiale elastico appunto Per non limitarle Questo sta a far vedere che la Mezco non fa le cose a caso Comunque questi dettagli stampati sulla tuta Sono veramente eccezionali Il contrasto che si crea tra pelle e tessuto elastico Io lo adoro a dir poco Vediamo che è dotato della solita imbracatura in stile X-Man Con la doppia X Vediamo che qui c'è il fodero appunto Per poter inserire la pistola all'interno Senza alcun tipo di problema Veramente fighissimo Vediamo anche gli stivali Comunque ragazzi il tutto Non è mai piatto come vedete Perché per esempio sul giallo Ci sono queste sfumature Questo painting di giallo più scuro Il blu vedete È comunque intervallato da questo tessuto E quest'altro tessuto Il braccio vabbè bionico È pazzesco a dir poco Tutto sfumato Pieno zeppo di dettagli Ci sono anche queste che sembrano tipo delle venature bioniche Bellissimo ragazzi Veramente eccezionale Lo vediamo anche sul retro Molto molto figo ragazzi Devo dire sono rimasto sorpreso da questa figure Vediamo le articolazioni adesso Abbiamo la testa che può guardare verso l'alto fino a qui Può guardare anche verso il basso in questo modo Qui abbiamo rotazione laterale Il movimento laterale in questo modo Chiaramente ragazzi queste articolazioni della testa sono un pochino limitate Perché si illumina Quindi è già tanto che siano così tanto mobili diciamo Per quanto riguarda le braccia abbiamo l'apertura laterale in questo modo qui Rotazione 360 gradi Rotazione qui al bicipite Articolazione doppia qui al gomito Comunque molto funzionale Piegamento al polso Rotazione al polso Per quanto riguarda il busto abbiamo il piegamento in avanti e indietro Con un ottimo raggio devo dire Rotazione laterale in questo modo Rotazione in questo modo qui Alle gambe abbiamo il piegamento in avanti senza alcun tipo di problema Il piegamento anche all'indietro Un po' limitato dallo scalp come al solito L'apertura laterale praticamente massima Il tessuto non è sforzato perché qui è elastico Abbiamo il piegamento doppio qui al ginocchio Molto molto ben realizzato Poi abbiamo il piegamento del piede in su Il piegamento del piede in giù Finalmente hanno migliorato un po' questa articolazione del piede Quelli di Mezco perché nelle precedenti era un po' troppo limitata Poi abbiamo anche rotazione in questo modo qui Nonché rotazione laterale della caviglia in questo modo qui Ed ecco qui il nostro cable sulla basetta rotante Gli ho fatto impugnare due armi perché comunque non farò le pose fighe Perché la figure non è mia Però vi volevo far vedere almeno come sta con le sue armi Perché è la cosa più caratteristica di questo personaggio Come vedete non ha alcun problema di stabilità Perché le armi sono leggerissime Quindi questa è una figata Allora ragazzi diamo i voti a questa figure Cominciamo dagli accessori Sono veramente tanti ben fatti C'è la basetta ragazzi C'è tutto Veramente top L'unica cosa che non mi è piaciuta troppo è la testa intercambiabile con quell'espressione Quindi avrebbe preso 10 ma scende a 9 Per quanto riguarda le articolazioni Veramente ben realizzate come al solito I vestiti in tessuto non limitano nulla Davvero eccezionali Anche qui diamo un 9 pieno Per quanto riguarda l'estetica ragazzi È a dir poco pazzesca Io adoro come è uscita fuori questa figure Ha dei dettagli incredibili Rispecchia molto bene il personaggio Le armi sono incredibili anche Fantastico Davvero fantastico Qui do un 9,5 Non do il 10 pieno Semplicemente ancora una volta Per quella testa intercambiabile Quindi ragazzi Il voto finale per questa figure È comunque un 9 pieno Anche qualcosina in più Veramente pazzesco Un must have Per tutti i fan Della versione classica Di questo personaggio Davvero incredibile Ripeto mi ha sorpreso Veramente tanto Ora ragazzi Tocca a voi farmi sapere Cosa ne pensate Di questo Cable PX Exclusive Con un commento qui sotto Il like al video È sempre caritissimo Così come anche la condivisione Vi ricordo un'ultima volta Se voleste acquistare Questo o tante altre action figure C'è il mio sito Aras Viewshop Nella scheda lì in alto Pure qui sotto In descrizione Detto questo Grazie a tutti per la visione Grazie ancora di tutto cuore A Leonardo Per aver permesso questa recensione Noi ci vediamo alla prossima Ciao da Arada Cable E collezionate sempre Grazie a tutti